Io vedevo a niente, hai capito? È bello. Io ho tutto sussato, non vedo niente, non vedo manco di stare. Io lo metto davanti al di grosso, guarda che grosso la porta. Sì, hanno detto che andiamo a cercare lì che non va qua, lì che va a diamante, il porto lì. Dov'è? Per mare lo trova. Andilizziamo, guarda. Vai, dica, l'ultimo sbozzo è che qua fa niente, guarda. Lo dico, sto stanno pure. Guarda, mi riesco, guarda. No. Sì, guarda. Dopo 40 minuti, l'ultimo sbozzo, la polvo, è la prima volta che vediamo i pezzi. E' un mare del centro. E' un po' l'era, va. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. 41 metà dentro al mare. C'è un cartonone che entra nel mare ci hanno. Hai detto che c'è un cartonone dentro in macchina. Sì, la stanno appuntando avanti i litri qui. Eccola, vai, vai. Stasca, eh. Il Vario è quasi domina. Vai, vai, il nuovo volo, no? Scusate, eh. Scusate. 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 Scusate, amore, quell'altro. Massa che roba, eh. Adesso, accompagna la nappa. Amore. Si questa è in ciavatta. Non vedi le ciavatta. Dentro, dentro, la vita d'avanti, no? Contra in tr ever nappa. Dai, sbrigati. Oh sbrigati. Buona fortuna. No bella. Prendendo a tutti pronta. Ti viene in tr ever nappa, no? No, non vedi. Fammi la toccare pure a me, oh? Guarda, che bella. Sì, capirai, io ormai... No, io le mando se sciacqua, capito? Sciacqua un po' sopra, eccola, guarda, 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 guarda che bella.